Banca IMI, la banca di investimento del gruppo Intesa San Paolo, parteciperà anche quest'anno all'importante appuntamento del TOD, del Trading Online Expo, un appuntamento estremamente importante per gli investitori perché avranno la possibilità di incontrare gli esperti, i professionisti della finanza e quindi un momento di educazione finanziaria in cui potranno imparare ancor di più a investire in modo consapevole. Banca IMI sarà presente con uno stand, avremo anche un incontro formativo in cui spiegheremo il funzionamento dei nostri strumenti finanziari e poi ci sarà un intervento molto interessante da parte della Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo. Banca IMI è uno dei principali emittenti in Italia di strumenti di investimento destinati agli investitori privati, un esempio sono le obbligazioni che possono essere anche denominate in valute diverse dall'euro, quotate in borsa sul mercato, sul segmento MOT di Borsa Italiana e poi ad esempio i certificati, strumenti estremamente interessanti perché efficienti e innovativi che consentono di affacciarsi al mercato azionario con diversi profili di rischio rendimento. Vi aspettiamo quindi numerosi il 24 e il 25 ottobre, saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande e richieste di approfondimento e ci vediamo in Piazza Affari.